Con quale strumento posso realizzare il sito web della mia parrocchia? Bentornati! Nuovo tutorial, nuovo tema, eccolo! Guida ai CMS, quattro strumenti per siti preconfezionati. Come sono fatti i siti internet? Da fuori sembrano tutti uguali, non capiamo facilmente quale sia l'ossatura, la magia che ci sta dietro. Dai tempi del primissimo web ad oggi, i siti internet sono cambiati tantissimo, diventando sempre più complicati nel dietro le quinte. E praticamente il motore di tutti i siti internet si chiama CMS, da lì si parte a costruirlo. Secondo Wikipedia, un CMS, cioè un Content Management System, in acronimo CMS, sistema di gestione dei contenuti in italiano, è uno strumento software installato su un server web, il cui compito è facilitare la gestione dei contenuti di siti web, svincolando il webmaster da conoscenze tecniche specifiche di programmazione web. Perché quindi utilizzare un CMS? Primo, di sicuro rende più semplice la gestione del sito web. Un CMS infatti possiede un'interfaccia semplice ed intuitiva che permette di aggiornare i contenuti del sito web come se stessimo utilizzando il Word di Microsoft, il programma per scrivere. Possiamo formattare il testo, giustificarlo, cambiargli le dimensioni e il colore, e poi possiamo inserire foto, gallerie e video con pochi click. Secondo, non dobbiamo avere necessariamente competenze tecniche da programmatori. Un CMS infatti è autoinstallante e permette la scelta di numerosi layout grafici prefatti, cioè degli sfondi praticamente, alcuni gratis e altri a pagamento. A noi rimarrà solo il compito di riempirlo con i nostri contenuti. Possiamo scegliere due modi di utilizzare un CMS. Iscrivendoci ad alcuni servizi online, ne esistono sia gratuiti che a pagamento, oppure installando il software CMS su uno spazio web che abbiamo precedentemente acquistato. Entrambe le possibilità sono valide e la scelta di una o dell'altra via ricade esclusivamente sulla volontà o meno di farsi carico delle piccole problematiche che ci possono essere nel caso di una installazione proprietaria di un software. Nel caso invece di iscrizione al servizio online, infatti, è il provider che si preoccupa di tutto, lasciando a noi soltanto la gestione dei contenuti. Vediamo insieme quattro strumenti, ma ce ne sono molti di più, che ci permettono di avere un sito dotato di CMS in pochi e semplici passaggi. 1. Wix Wix è sicuramente il leader dei servizi online che offrono la possibilità di crearsi un sito in autonomia. Oltre 125 milioni di persone in tutto il mondo hanno scelto Wix per creare il loro sito web. Citando il testo presente sul loro portale, con Wix hai la libertà di creare gratis il sito che hai sempre voluto. Non importa quanta esperienza tu abbia nella creazione di siti web. Chiuse le virgolette. Wix ci dà la possibilità di scegliere tra numerose grafiche e nel pannello di gestione mette a disposizione strumenti davvero innovativi, come il drag and drop. È una funzione che ci permette di trascinare gli elementi dei layout da una parte all'altra del sito web per personalizzarlo in base alle nostre esigenze. È una vasta libreria di web apps, funzionalità aggiuntive da poter inserire tra le pagine. 2. WordPress Molti lo definiscono il CMS per eccellenza. È un software open source, prelevabile direttamente dalla rete, vedete qui il sito internet, e può essere utilizzato da chiunque con o senza esperienza in ambito informatico. È il CMS più utilizzato al mondo ed è anche uno degli strumenti più usati dalle web agencies per realizzare siti web professionisti e portali di piccole e medie dimensioni. Con WordPress è possibile scegliere sia la strada della installazione proprietaria, sia quella dell'attivazione di uno spazio online su www.wordpress.com. Anche nel caso di WordPress abbiamo un pannello di gestione semplice ed intuitivo, ma il vero punto di forza è la vasta repository di temi grafici, sia gratuiti che a pagamento, e di plugin, funzionalità aggiuntive, disponibili anche sul sito ufficiale. 3. Joomla Joomla, il sito ufficiale italiano è www.joomla.it, è una potente CMS open source, molto famoso ma meno utilizzato rispetto a WordPress. Anche nel caso di Joomla è possibile scegliere le due strade. Quella dell'installazione autonoma, scaricando il software sul proprio computer e seguendo la procedura assistita. Oppure quella dell'attivazione di un servizio online su questo indirizzo web. È difficile dire quale sia il CMS open source migliore tra Joomla e WordPress. Magari provateli entrambi e valutate voi. Anche Joomla, naturalmente, ha una vasta gamma di layout grafici e plugin che potete utilizzare. 4. P-Web P-Web è un'iniziativa pensata dal servizio informatico della Conferenza Episcopale Italiana, realizzato da IDS Unitelm e SID e promosso da UECA. È una piattaforma online per la creazione e gestione dei siti parrocchiali italiani e consente ad ogni parrocchia di gestire il proprio sito web, in autonomia e con assoluta semplicità. P-Web utilizza come motore proprio WordPress, il CMS più utilizzato al mondo e quindi ne eredita tutti i vantaggi. Il punto di forza è sicuramente quello di integrarsi con altri strumenti già utilizzati da numerose parrocchie come P-Map, SIPA e SIPA Connect. Già numerose parrocchie italiane hanno aderito al progetto P-Web grazie anche ad un supporto puntuale ed efficace pensato appositamente per venire incontro alle esigenze dei siti web parrocchiali. A voi quindi rimane la scelta di provare questi strumenti e valutare quale sia il migliore nel vostro caso specifico. Noi possiamo garantirvi che sono tutte opzioni valide per poter gestire in autonomia il vostro sito internet attraverso sistemi molto semplici e in alcuni casi molto innovativi. Per questo tutorial grazie a Danilo Di Leo e Andrea Canton un saluto da Fabio Bolzetta ci vediamo al prossimo tutorial sempre rigorosamente online.